ciao sono massimo verini e in questo video molto pratico voglio mostrarvi come affrontare un intero concerto con la minima strumentazione possibile per questo il titolo a small rig for a full gig ok quindi tutti i suoni che vi farò ascoltare sono realizzati con due h9 max due h9 max e due stone pump brown che sono due piccoli pedali con all'interno un amplificatore da 30 watt questi vanno nelle casse e basta tutto quello è realizzato con questo con questa strumentazione così piccola visto che gli spazi dedicati ai chitarristi sono sempre meno e quindi con due piccole casse una cassa 2x12 e questa strumentazione possiamo affrontare un concerto ascolteremo e vi farò ascoltare alcuni esempi di suoni e però cambierò i suoni invece che con dei preset direttamente dall'ipad così potrete vedere il suono che io metto nel primo h9 e il suono che metto nel secondo h9 una volta memorizzati in preset sono richiamabili in una modalità live con la propria band o nella situazione in cui ci si trovi a suonare ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti